Ci sono due modi per capire quanto è pronto il pomodoro. Uno è questo. Il secondo in cucina. L'istinto in cucina è importante. Tu sei pronto a seguirlo? Oggi abbiamo burrata, pomodoro e melanzane. Questi ingredienti possono chiamare una sola cosa. Spaghetto boiello, grano aureo 100% italiano. Lo spaghetto non ti tradisce mai. Un po' di olio. Facciamo un bel sugo al pomodoro. I pomodorini li abbiamo pelati sempre in acqua bollente e raffreddati subito. Mi do un consiglio, lasciarli un po' al sole perché così lo zucchero si concentra. La maturazione è sempre quella che dà più dolcezza alla fine al pomodoro. Poi un altro passaggio, prima di usarlo, che vi faccio vedere adesso. Il pomodoro va condito. Mettiamo un po' di olio. Mezzo spicchio d'aglio. Sale. E mettiamo delle foglie di basilico. Questo qua lo facciamo marinare per qualche ora. La melanzane qua possiamo farla come vogliamo. Vediamo quanti tipi di melanzane che ci sono. Strigliate, nere, viola. Ma l'istinto ti porta a scegliere quello che ti serve a te. Ricordatelo. Questa qua è stata cotta alla griglia. La apro. Tolgo i semi che non mi interessano. Facciamo delle falde. Poi facciamo un battuto. Una tartare di melanzana. Mettiamo maggiorana. Mettiamo dei pezzi di basilico. Olio. E sale. Un po' di olio all'aglio. E qua ti viene proprio l'odore familiare, no? Quando mia nonna grigliava le melanzane, poi le metteva sotto olio con aglietto, peperoncino, prezzemolo. Li faceva stare là per mezza giornata e poi la sera li andavi a mangiare. Che ben ricordi. Mettiamo un pezzetto d'aglio. Mettiamo un po' di brodo. Adesso cuociamo la pasta. Che bella che è. Togliamo lo spicchietto d'aglio, il basilico. È venuto il tuo momento, dai. La togliamo sempre qualche minuto prima. Così facciamo il matrimonio fra pasta e pomodoro, no? Una foglia di basilico. Senza avere paura del basilico, eh. Ecco qua. Prendiamo il piatto. L'amerezzato. L'amerezzato dentro uno stampino per dare una forma dove poi ci appoggeremo la pasta sopra. Prendiamo la pasta pure qua, ci aiutiamo con un mestolo. Mamma mia, non è bello. Adesso prendiamo la burrata. E qua fai sempre bella figura. Cucinare a Milano, ma partire per Napoli.